18 persone denunciate all'autorità giudiziaria, 13 emissioni di ordinanza cautelari emessi dal GIP del Tribunale di Perugia, di cui 7 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e un divieto di dimori in Umbria. Questi i numeri del blitz denominato All-In, una maxi-operazione antidroga dei carabinieri, tesa a smantellare lo spaccio da parte di cittadini albanesi, cubani e italiani tra i comuni di Gualdotadino e Gubbio, ma anche in alcune zone marchigiane confinanti con l'Umbria. Di 12 arrestati, 7 sono albanesi, 3 italiani e 2 cubani. I carabinieri si sono concentrati sia sul centro storico che sulla prima periferia, sia Gualdese che Gubbina, soprattutto a Gualdo tra via Storelli, via Roma e via Fralminia. Nelle prime ore mattutine di sabato scorso, oltre i 10 pattuglie, agenti in borghese, con anche l'ausilio di un elicottero, hanno fatto irruzione in un'abitazione in pieno centro e con particolari strumenti da lavoro hanno reperito sia contanti che partiti di droga custoditi in una cassaforte nascosta. A spiegare i termini della complessa operazione, il tenente colonnello Marco Sivori, comandante del nucleo informativo del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Perugia, assieme al maresciallo Simone Mattei, comandante della stazione di Gualdo Tadino e il capitano dei carabinieri della compagna di Gubbio, Fabio Del Sette, le prime indagini sul caso, coordinate dalla procura perugina, risalgono ad oltre un anno fa. Nel mese di marzo 2019, difatti, proprio a Gualdo Tadino, dove abitava da anni, viene individuato un 25enne cubano che riforniva di cocaina una variegata clientela del territorio, luogo dello spaccio una sala giochi cittadina dove il pusher attendeva gli acquirenti per poi compiere lo scambio con una stretta di mano. L'attività di osservazione del locale ha permesso di capire che quello era il luogo di spaccio, sempre con le medesime modalità, anche di altri due pusher, nel dettaglio un 32enne fratello del ragazzo cubano e un ragazzo albanese 24enne, il tutto acclarato dall'installazione nella falla giochi di una telecamera. Ulteriore prova sulla connexion fra i tre, le intercettazioni telefoniche che hanno anche accertato come fosse il 24enne albanese il vero deus ex machina dello smercio, peraltro istradando zii e cugini all'attività di spaccio al dettaglio per suo conto. Un'intera famiglia dedita dunque allo spaccio, che i carabinieri della compagna di Gubbio notavano muoversi con atteggiamenti sospetti anche sotto i cinque colli. La droga veniva acquistata dall'Olanda a 34 euro al grammo e rivenduta a 64 al dettaglio, ovvero tagliata con altre sostanze, in modo che con un grammo puro riuscivano a farci almeno due grammi da rivendere. La chiusura della falla giochi causata dal recente lockdown ha portato l'attività, spaccio di cocaina in primis, a variare continuativamente location ma sempre in luoghi isolati. La polvere bianca, in dosi, veniva trasportata all'interno di un calzino che occultavano nel cruscotto delle auto oppure nel bagno di un bar. Settimanalmente poi il giovane 24enne provvedeva a riscuotere le ingenti somme ricavate che venivano investite unitamente alla fidanzata per l'acquisto della cocaina e in parte reinvestiti in Albania. Fedelissimo del giovane, un 25enne di Gualdo Tadino, anche lui arrestato, che fungeva da autista e in maniera autonoma compiva cessioni. Nel corso del tempo il sodalizio ha notevolmente accresciuto il volume d'affari, giungendo a smerciare fino a circa 3 kg di cocaina al mese, con un ricavato di oltre 100.000 euro, monopolizzando di fatto il mercato eugubino gualdese. È stato appurato che il canale di approvigionamento della droga giungeva da prima dal Bresciano e poi dal circondario fiorentino e poche ore prima del Maxi Blitz, sempre a Gualdo, era stato scoperto e scovato un corriere che nell'occasione stava recapitando 2 kg di cocaina, portando anche al sequestro di 68.000 euro in denaro contante, quale corrispettivo. Soltanto un preludio, prima dell'operazione All-In, che in totale ha portato al sequestro di 2,3 kg di cocaina e 75.000 euro in contanti. Numeri importanti e che fanno capire come la criminalità non sia solo insita nelle metropoli o nei principali tessuti urbani, come dimostra nel caso in questione una città di poco più di 15.000 abitanti come Gualdo Tadino.